il mais spinato nel mondo arriverà anche in America per esempio, cosa sta succedendo? No, questa è grazie a un'iniziativa del Comune di Bergamo che ci ha chiesto di partecipare a questo loro progetto di Bergamo Città Creativa dell'UNESCO e Città Creativa dell'UNESCO della gastronomia e quindi tra le varie proposte che ci sono all'interno di questo percorso tra le città creative dell'UNESCO mondiale c'è anche il tema del mais e da questo punto di vista si è creato questo network tra alcune città americane e messicane e Gandino, ovviamente Gandino in collaborazione con il Comune di Bergamo o meglio il Comune di Bergamo in collaborazione con Gandino e con la comunità del mais spinato di Gandino, è stato firmato un protocollo dal sindaco Gori e da me come sindaco di Gandino per definire questo accordo che prevede una collaborazione e una partecipazione, uno scambio di conoscenze su tutto quello che riguarda il tema del mais, quindi le città coinvolte sono Merida in Messico, nella penisia dello Yucatan, per chi conosce la storia sa che lì gli Olmechi coltivavano per la prima volta il mais, poi ci saranno due città degli Stati Uniti, molto grosse, quindi vedremo come gestire la cosa, Tucson e San Antonio in Texas, luoghi dove appunto il mais è centrale, ovviamente anche loro stanno lavorando per i mais antichi, tipo il mais spinato di Gandino come quello di Rovetta, quelli che hanno un pedigree storico e che hanno ancora una valenza genetica della biodiversità di più di 2000 anni fa, quindi il network prevede una serie di iniziative, la presenza di cuochi nelle diverse iniziative, ovviamente noi avremo a Gandino per conto del Comune di Bergamo, insieme con il Comune di Bergamo e gestito soprattutto la comunità del mais spinato, la fine settembre ci sarà la giornata appunto dove anche Tucson, Merida e San Antonio saranno presenti per lo scambio tra le città in maniera culinaria. E potranno anche vedere su carta il progetto, il documento che avete messo nel PGT che valorizza, identifica le aree pregiate dove si coltiva il mais spinato a Gandino. Perfetto, di fatti c'è sempre stata questa discussione, ma Gandino è piccolo, dove è queste aree dove si coltiva il mais eccetera. Grazie al lavoro fatto con lo studio del progetto del PGT che abbiamo in fase di preparazione, quindi verrà portato avanti entro il mese di giugno, abbiamo elaborato un'indagine fatta appunto dall'agronomo incaricato del PGT per tutta la questione dei boschi, natura eccetera eccetera e gli abbiamo anche dato l'incarico per fare una mappatura della situazione del mais spinato e delle opportunità che ci sono. Sono state individuate 110.000 metri di superficie, che è quella oggi, 112.000 per la precisione, dove appunto c'è la possibilità di coltivare il mais dove è stato coltivato e dove prevediamo che per il futuro possa essere coltivato. Ovviamente è una superficie molto piccola, perché stiamo parlando di 112.000 metri, che però è significativa per dire che il mais è spinato, ha un suo luogo, ha dei luoghi dove per la storia è stato coltivato e potrà essere coltivato ancora in futuro e quindi questa visione locale, quindi garanzia del luogo e quindi della veridicità di tutto il progetto anche con le commissioni d'eco che definisce la denominazione comunale di origine. Questi collegamenti, grazie al Comune di Bergamo che ringrazio il sindaco e l'ufficio UNESCO di Bergamo che ci ha coinvolto in questo progetto, è essere in network con il mondo. Quello che ci piacerebbe raggiungere è nella città di Merida, dove c'è ancora una banca del germoplasma, riuscire a trovare in questa banca ancora i semi e la matrice genetica del mais spinato di Gandino che arriva di sicuro da quei luoghi. Quindi questo elemento è anche una valenza scientifica che vedremo di riuscire a costruire, ma comunque l'obiettivo di fondo è l'arte culinaria, quindi cucinare il mais nelle diverse modalità a Gandino, Bergamo, Bergamasca e Messico e negli Stati Uniti.